Faccio una breve introduzione. Primo ringrazio tutti i partecipanti che gentilmente hanno accettato questo invito, così anche a pochissimo tempo, perché questo è stato inventato dieci giorni fa di fare questa cosa qua. Però questo è anche un vantaggio di questa modalità ibrida, se uno connette pure con gli Stati Uniti, glielo puoi chiedere il giorno prima. Questo workshop è in italiano appunto perché è il primo, è un piccolo tentativo eccetera, poi li faremo più strutturati con stranieri, insomma tutto questo è il primo tentativo che verrà man mano migliorato. Quindi noi gestiamo questo ente di ricerca da circa un anno, abbiamo avuto varie difficoltà di vario tipo, poi è avvenuto il Covid che ha aumentato enormemente tutte le difficoltà, perché questo edificio è pronto esattamente circa da un anno, quindi è stato utilizzato per pochi mesi ma la gente non si è nemmeno potuta sistemare che è avvenuto il Covid che ha un po' paralizzato tutta la parte logistica. Ciò nonostante abbiamo deciso di iniziare questa serie di meeting perché tanto il Covid penso che purtroppo starà con noi per un bel po' e quindi non possiamo metterci nell'idea, aspettiamo che finisca. Quindi noi facciamo quello che possiamo al meglio delle nostre possibilità e ringraziamo tutti per darci una mano. Vabbè, allora questo è un nuovo ente che però si connette a una storia antica, quella del gruppo Enrico Fermi, quindi abbiamo un'eredità molto pesante e impegnativa, è stato ristrutturato completamente negli ultimi anni e come vedete è anche molto bello e molto efficiente, e dobbiamo decidere quale strategia utilizzare, quindi qual è il senso di un ente così piccolo e io quando ho proposto la mia candidatura al governo ho mandato un documento dove un po' venivano spiegate le mie ambizioni e il documento si intitolava Il Centro Fermi, un piccolo istituto ma una grande opportunità. Qual è questa opportunità? Quest'opportunità è di essere complementare alle istituzioni tradizionali, cioè alle università e ai centri e agli enti di ricerca tradizionali. E dove si trova la complementarietà? La complementarietà si trova in tutte le cose nuove che appaiono ogni giorno nel panorama internazionale della scienza, e della tecnologia. Quindi noi possiamo essere molto veloci e molto efficienti e possiamo essere sensibili a questi nuovi germogli. Quindi io ho definito questo come una sorta di incubatori di start-up scientifiche. Oggi abbiamo anche persone che sono dei grandi campioni di start-up vere, di business, diciamo anche se orientato a temi scientifici, quindi non è questo che si intende anche se oggi vogliamo parlare anche di quello. Quindi l'idea è di cogliere i fermenti nuovi nell'ambito interdisciplinare. Per esempio in università, che io voglio bene a sapienza come Eugenio Gaudio sa benissimo, però i raggruppamenti disciplinari delle università sono un grande freno all'interdisciplinarietà. E oggi è chiaro che quasi tutto è fortemente interdisciplinare. Io rimasi sconvolto quando nell'89-90 vidi l'algoritmo di Google che ha rivoluzionato la nostra vita. È una cosa semplicissima, è una cosa che io potrei inventarlo io, potrei inventarlo ognuno di voi. Perché non l'abbiamo inventato io o voi? E non lo so perché non abbiamo guardato le cose nella stessa, diciamo nella giusta prospettiva. Non era una cosa difficile come le cose di Fermi o di Einstein. E però in qualche modo non veniva considerato un problema scientifico o tecnologico. Ecco io penso che casi come Google ce ne sono tanti e oggi se ne parlerà sia dal lato dell'impresa che dal lato scientifico. Quindi l'idea è di essere un incubatore di start-up scientifiche e magari pure di start-up poi di business, questo vedremo. E quindi di essere aperti a stimoli esterni. Quindi noi non siamo un oggetto chiuso che sa già quello che deve fare. Abbiamo fatto un piano triennale abbastanza corposo, però noi siamo aperti a suggerimenti dall'esterno, da parte di chiunque, di idee interessanti. Quali caratteristiche devono avere queste idee? Queste idee devono avere la caratteristica che nel centro Fermi c'è un'identità. Cioè noi non possiamo essere l'appetice del 3% di un'attività, che ne so, del CERN, pure lodevolissima. Dobbiamo creare un'identità qui dentro e dobbiamo farlo con operazioni che non sono completamente definite dal budget o dalla dimensione. Però gli esperti di start-up mi dicono che anche nel business si parte da piccole cose. Quindi queste piccole cose sono le cose dove noi vogliamo porre l'attenzione e la nostra sensibilità. Quello che abbiamo fatto in questo anno è stato parecchie cose. Primo abbiamo dovuto riorganizzare l'amministrazione e avremo un nuovo direttore amministrativo che sarà bandito tra poco. Questo è stato piuttosto complicato e anche un po' noioso. Abbiamo fatto nuovo statuto e nuovi regolamenti. Abbiamo fatto il nuovo CDA, il Consiglio Scientifico, il Comitato di Valutazione. Abbiamo nominato direttore scientifico, Gabrielli. Abbiamo già fatto vari concorsi sia per posti permanenti che post-ort. Abbiamo messo in moto tutta la macchina. Adesso, Covid permettendo, noi ci auguriamo che questo edificio diventi un po' più stretto di come è adesso, che sembra un po' un deserto, però molto di alta qualità. Quindi ci auguriamo di popolarlo. Una delle cose principali è stata fare dei dottorati che sono stati fatti in congiunzione con Sapienza e con Tor Vergata. Questo probabilmente si potrà allargare pure, per esempio, a Roma 3 o anche a cose extra-romane. Quindi questa cosa di dottorati io la considero una delle cose più importanti a cui ho partecipato e oggi qui dentro ci sono già 7 o 8 dottorandi di tipo abbastanza interdisciplinare che vivono e lavorano qua dentro. E questo mi pare un ottimo risultato. E poi sono tutti contenti perché c'è ampi spazi e una situazione molto gradevole anche dal lato logistico. Poi, dunque, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il piano triennale. Il piano triennale è molto interessante perché abbiamo attratto tantissimi progetti praticamente a costo zero. Quindi il limite di questo ente non è il suo budget, che in ogni caso ci auguriamo di aumentare. Cioè la gente è molto disposta a venire qui sulla base di queste idee, di questo luogo, di questa situazione e non si defa un negoziato. La gente ci viene con piacere. Tutte le persone a cui ho suggerito di scrivere un progetto lo hanno fatto senza proporre nessun negoziato economico o di qualunque tipo. Questo significa che abbiamo un grande potenziale e che non siamo limitati dal nostro budget. È un fatto molto interessante. Poi, ovviamente, il budget verrà, eccetera. Però non è quello il punto chiave. Poi, abbiamo fatto un sito web abbastanza carino, dove trovate un sacco di informazioni. Ci sono due ragazzi giovani e brillanti che lo seguono e stiamo, diciamo, avendo un impatto con i media, diciamo, facciamo uno sforzo verso i media. Quindi, ora, il museo è stato quasi sempre chiuso, quindi purtroppo lì la cosa si è un po' bloccata. Però noi faremo molta attenzione ai media. Ultimamente, per esempio, abbiamo avuto un ruolo nel dibattito tra ricerca e sviluppo economico che è stato alla base anche dell'idea della valutazione dei progetti del Recovery Fund, dove io anche personalmente mi sono impegnato a scrivere vari articoli, soprattutto su Sole 24 Ore, che hanno avuto un qualche impatto anche nel mondo politico. Quindi, questo tipo di, diciamo, di sforzi e di, diciamo, di utilizzo della scienza o delle nostre competenze per un impatto sociale, anche immediato, intendiamo svilupparlo sempre più. Per esempio, la Comper, che è la consulta degli enti di ricerca, che quindi comprende 25.000 persone, ha adottato la nostra definizione, diciamo, del rapporto tra ricerca e sviluppo economico. Sono tre o quattro righe dove è scritto che non è così banale, serve oltre alla ricerca anche due o tre altri elementi essenziali affinché questo sviluppo sia, diciamo, sia concreto. E questi 25.000 ricercatori ora si identificano dietro questa definizione che abbiamo proposto noi e questo io sono molto, come dire, orgoglioso di questo risultato, diciamo, di immagine e anche concreto. Poi stiamo organizzando dei film, dei video, dei libri, eccetera, e quindi c'è tutta un'attività in questo senso anche di alta qualità. C'è un recente breve documentario fatto su Majorana di altissimo livello, se è proprio un film professionale e intendiamo proporre un vero e proprio film tipo quello di Turing su Fermi, diciamo, da Via Panisperna allo Salamos e questo stiamo discutendo. Ultima cosa, diciamo, intendiamo sviluppare un hub internazionale qui, cioè questa è un'istituzione stabile, noi la vogliamo rendere più stabile su queste tematiche nuove e quindi l'idea è di fare un hub internazionale con alcuni partner e questi già sono abbastanza coinvolti, uno è la World Bank di Washington, l'altro è il Sony Lab di cui sentiremo e poi c'è il Joint Research Center della Commissione Europea, queste sono istituzioni già essenzialmente coinvolte più o meno nel fare accordi con noi e nel sviluppare attività insieme. Infine oggi, quindi oggi è un caso un po' particolare perché parliamo del rapporto tra scienza e impresa, abbiamo qui imprenditori prestigiosissimi che ho messo alla fine, perché ci dovranno dare la loro opinione sulle cose che facciamo, i loro suggerimenti e le loro critiche e quindi li ringraziamo molto e l'idea è di creare un dialogo rispettoso dei vari ruoli tra i ricercatori e gli imprenditori. Questa cosa noi nel nostro piccolo l'abbiamo già fatta a livello personale con vari degli imprenditori che sono qui e ci auguriamo che questo aumenti e che diventi una situazione di facilitazione di questo rapporto che secondo me in Italia è un po' un problema. Io stesso nei primi dieci anni della mia attività professionale ho lavorato nella ricerca dell'industria internazionale prima alla Xerox in America e poi alla Braum Boveri a Zurico e io sono stato benissimo nell'industria e ero assolutamente libero nel senso che facevamo delle cose diciamo anche utili ma le cose utili non necessariamente sono noiose o brutte e poi avevamo un grandissimo spazio di libertà. Io mi sento molto meno libero adesso che siamo un po' schiavizzati dalla ricerca di fondi, l'appoggio politico e tutte queste cose cioè l'industria dove sono stato io erano ottime e ho passato i periodi di maggiore libertà scientifica sembra strano ma questa è la mia. Quindi io penso che questo rapporto piacevole, interessante e alla fine pure utile possa essere migliorato e spero che questo nostro contributo sia utile e divertente. Va bene, mi pare che questo è quello che volevo dirvi e sono perfettamente in orario quindi se non ci sono commenti o altre cose passerei la parola all'onorevole Fioramonti che è un po' il responsabile di questo nuovo corso del centro Fermi che è un po' il nostro corso del centro